Non è finita, Maurizio sta aspettando che finisca la canzone, ma è lunga! Allora l'hanno scritta il coro tenore Sartone Ammesina, purtroppo l'hanno scritta così lunga, Maurizio, abbi un attimo di pazienza, adesso arriviamo all'ultimo, questo è l'ultimo! Casa natura stoffesa, casa natura stoffesa, casa natura stoffesa, Bimbo, 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 bimbo Oh, purtroppo, per fortuna, non lo so, come volete, questa canzone è molto lunga, eh, se la canto ve l'assorbite. Ecco qua, a me piace, eh?